I nostalgici, i presenti, i soldi ce li sono, perché lo sono anche io. Volevo proporvi un pezzo che è nato in una maniera un po' strana. Eravamo nel backstage alla Rai, ero la Rai, sì era la Rai. Renga, Renga si è avvicinato a noi, un po' marappione, e ci ha chiesto se ci interessava di fare una canzone insieme, una canzone vecchia. A noi non interessava, quindi ha chiamato in quella del Kunz e l'ha fatta con lui. A noi non interessava, quindi ha chiesto se ci interessava di fare una canzone vecchia. A noi non interessava, quindi ha chiesto se ci interessava di fare una canzone. E la vita è in pace, battiti la nuova, respiro, rai e via, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. E la vita è in pace, battiti la nuova, pensi a te. Got you!